Amiche ed amici bianconeri, mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Ma anche merito della squadra, quindi li ringrazio molto. Sicuramente sto crescendo sulla parte tecnica, che spesso ci aiutano, gli mister ci aiutano molto, ma dovrò migliorare sicuramente sul gioco, sull'attacco alla profondità, anche un po' di più, dobbiamo lavorare. Il rapporto è stupendo, lo apprezzo molto come mister, è un mister molto importante per me. è sicuramente quello di fare tantissimi gol, superare almeno i 10-15 gol e poi di squadra arrivare il più lontano possibile e cercare di vincere alla fine lo scudetto